Piazza Grande si vesta festa e per due giorni si tinge dei colori della primavera. È infatti arrivata in città la prima edizione di Arezzo in Fiore, la mostra mercato primaverile di piante e fiori. 20 espositori, tra i più qualificati specialisti della Toscana, hanno così trasformato una delle piazze più belle d'Italia in un vero e proprio giardino dove si potrà passeggiare alla scoperta di tutto ciò che serve per rinnovare balconi e giardini. Ci sono alcuni che hanno solo rose, alcuni hanno solo piante grasse, oppure peonie, carnivore, tillanzie, aromatiche, piante da giardino e erbacee perenni. È un buon assortimento in una bellissima piazza, in un tempo ormai si spera primaverile dopo un mese di piogge e freddo. Sono esperienze queste qui importanti anche per voi specialisti del settore? Sì, sono occasioni per presentare le nostre collezioni e venderle a un pubblico soprattutto di appassionati. E con Arezzo in Fiore prende avvio anche il concorso Balconi in Fiore, proprietario, gestori di balconi, terrazzi, corti e giardini potranno così sfidarsi con le proprie creazioni inviando una foto etto il 25 luglio 2019. Per partecipare al concorso è necessario iscriversi gratuitamente attraverso il sito della società Toscana di Orticultura. La proclamazione dei vincitori sarà fatta il prossimo 5 ottobre.